Il dopo Covid ha visto per molti una nuova sensibilità rispetto all'equilibrio tempo privato e tempo del lavoro e le attività come quelle che si svolgono nel nostro settore, che sono H24 tutti i giorni, feste, anzi tanto più se ci sono feste eccetera e a rotazione nell'arco della giornata sulle 24 ore sono guardate con molta difficoltà da chi vuole entrare nel mondo del lavoro purtroppo ha perso molto appeal questo settore, certamente le colpe sono anche di chi gestisce in modo un po' spregiudicato la forza lavoro nel settore non ci nascondiamo, questo esiste, però le difficoltà le ritrovano anche le aziende molto strutturate e che comunque operano nel pieno rispetto delle regole, anzi cercando il più possibile di coinvolgere e fidelizzare i lavoratori è un tema culturale, mi è piaciuto molto il discorso che ha fatto prima l'intervento del dottor Ponsellini quando parlava di questo senso di consapevolezza e di nuova cultura che dobbiamo costruire al nostro interno perché il tema del lavoro è un tema molto delicato, sta passando il messaggio che il lavoro deve essere necessariamente una festa tutti i giorni questa è una cosa meravigliosa se accade, però nel lavoro c'è una componente di sacrificio che non è detto che sia poi sfruttamento ciascuno di noi impegna parte del suo tempo in questa attività, il ritorno che ne ha non è squisitamente quello economico ma anche l'equilibrio della persona e questo è un tema certamente che va costruito anche nella mente dei giovani perché è difficile trovare poi soddisfazione alle proprie aspettative se sono così lontane dalla quotidianità anche saper affrontare la realtà di tutti i giorni nel mondo del lavoro è fondamentale ciò non toglie che ovviamente sono chiamati gli operatori al massimo rispetto di tutti quelli che sono i diritti che i lavoratori hanno e anche a premiare e valorizzare il lavoro che viene svolto è un settore il nostro che è in una fase direi esplosiva siamo passati da un fermo pressoché totale fino a 12 mesi fa non succedeva niente a 12 mesi oggi siamo esattamente all'universario della ripartenza dal covid in cui si è lavorato a livelli mai raggiunti prima il centro studio di Confindustria ha già misurato che i primi tre mesi dell'anno hanno visto un incremento del 33% della spesa di turisti internazionali in Italia sono numeri che già partivano molto alti ma che ora stanno continuando a crescere in modo molto forte e soprattutto continuativo quindi nell'arco dell'anno non abbiamo visto grandi flessioni del turismo quindi una sorta di destagionalizzazione determinata dalla voglia delle persone di uscire e questo ci porta sul tema di oggi, quello della sostenibilità il turismo può continuare a crescere, può dare valore al paese, ne sta dando già molto e può continuare a darlo certamente vanno sfruttate le opportunità che il nostro paese ha che non sono solo quelle dei grandi attrattori turistici consolidati ma anche quelle delle aree interne e lì lo sviluppo è uno sviluppo che diventa interessante perché colpisce anche la componente diciamo sociale della crescita perché può portare lavoro è coerente con i valori della collettività e del territorio e può costruire uno sviluppo più diffuso nel nostro paese quindi è uno strumento di crescita che da solo non basta non ci nascondiamo, l'Italia non può vivere di turismo e poi sarebbe anche un'anomalia un paese che vivesse solo di questo ma può il turismo dare un contributo ancora maggiore tutelando la nostra cultura, la nostra cultura della quotidianità non solo la nostra cultura dei musei attenzione, i viaggiatori quando scelgono l'Italia vengono certamente perché ci sono tantissimi attrattori ma la cosa che colpisce di più e che ritroviamo in tutte le analisi che vengono fatte è la voglia di venire a vivere, a vedere la vita come loro immaginano la facciano gli italiani che ai loro occhi è un modello di vita particolarmente coinvolgente, bello, interessante ai nostri forse un po' meno, visto che viviamo una quotidianità magari diversa però questo è un grandissimo valore che ci permette di sviluppare diffusamente nel nostro paese il settore il tema dell'immobiliare è fondamentale noi siamo un pezzo dell'allargamento quello italiano è il patrimonio più grande che ci sia in Europa di alberghiero è un patrimonio importante e un po' datato gli interventi di cui ha fatto parola il ministro sono stati molto importanti credo che la risposta delle aziende italiane alberghiere ai due bandi PNRR che sono stati fatti Fritturismo e IFIT prima è stata impressionante con una messe di progetti avanzati, cantierabili, pronti in una logica di transizione ecologica e di riqualificazione dell'offerta che è stata impressionante purtroppo le risorse erano poche ovviamente poche non è un termine, non poche in assoluto ma poche rispetto alla domanda e questo secondo me dovrebbe essere oggi la spinta per spostare una parte di quelle risorse che nel PNRR non si riesce ad attivare nell'immediato verso un settore che in questo momento potrebbe impegnarle molto proficuamente nell'interesse dei singoli ma anche della collettività e la collettività